In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere le migliori calzamaglie termiche. Indossare una calzamaglia termica sotto ai pantaloni protegge dal freddo particolarmente rigido, ad esempio se si praticano sport sulla neve, oppure si sopporta male il clima invernale. Le proprietà isolanti dei tessuti utilizzati aiuteranno a trattenere il calore corporeo. Di norma le calzamaglie termiche si compongono di lana o materiali sintetici, ma in ogni caso l'importante è che risultino morbide e avvolgenti a contatto con la pelle. Solo così potranno svolgere al meglio il loro compito, garantendo il comfort di chi le utilizza. Un altro requisito da ricercare in tali indumenti è la praticità d'uso, soprattutto per quanto riguarda l'igiene. È preferibile cercare modelli che si possono inserire in lavatrice per poterli pulire accuratamente. Inoltre, se il loro tessuto è traspirante eviterà la formazione di cattivi odori.